Dotarsi di una politica dell'immigrazione e dell'asilo, all'altezza dei valori che sono alla base del progetto di integrazione europea, costituisce un obiettivo primario per la stabilità e per la stessa coesione dell'Unione, oltre che per poterci confrontare con i Paesi della Regione in maniera credibile. Se vogliamo che questa nostra Europa continui ad assicurare prosperità e benessere, dobbiamo provvederci di una strategia dell'accoglienza sostenibile ma concreta, in sintonia con le complesse sfide dell'oggi.